Buonasera a tutti voi e benvenuti a Donia Costale con il pochino complizio di inizio vediamo insieme i protagonisti da match abitare il controllo del signor Lapsardo, assistente ai signori Lapsardo e con me, ma con ufficiale del signor Lapsardo e Fiori e anche di riporta, sono i signori Tamanto e Mazzolero Comunichiamo le formazioni delle squadre Fiori e Tic but stavamo in�oto la squadra Lapsardo e Fiori i treni i treni i treni i treni i treni numero 10 per Tandeschi con il numero 13 Astori numero 20 Bontuale con il numero 28 Alonso numero 72 15 a disposizione con il numero i quattro pezzerini per 3,6 per 3,5 11,12 per 2,6 per Tandes e 18 Suarez 21 Eru con il numero 22 Rossi 23 Pasquale 30 Mavacada con il numero 33 Roncani Iruandusa allenatore Massimiliano con il numero 1 Geronuidi numero 3 Giulio ieri numero 6 Silvini numero 8 Gattelio Martigio numero 10 numero 12 numero 15 Andrea Marsegni numero 16 Leonardo numero 17 Mario Zucchic numero 19 Leonardo Bobici numero 21 Polo Timor 9 numero 3 Patris Erua a disposizione numero 25 metro 4 Pigno 4 Casas 7 Zaza 9 12 12 12 24 24 26 27 Stura numero 40 Capitale e sulle scelte e ancora una volta fino alla fine Forza Iruandusa 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 Nieto Iruandusa 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 Dolo che si alza davvero, solo perché è la luce, storia di questa cosa, ma quando fischia di litio, di litio, questo sogno che sei. Luce, voglia il più grande amore, bianco che abbraccia il vero, Dolo che si alza davvero, di luce per sempre starà. Luce, voglia il più grande amore, bianco che abbraccia il vero, Dolo che si alza davvero, di luce per sempre starà. Di luce per sempre starà. Luce, voglia il più grande amore, bianco che abbraccia il vero, Dolo che si alza davvero, di luce per sempre starà. Luce, voglia il più grande amore. Luce, voglia il più grande amore. Luce, voglia il più grande amore. Segui pleci alzadlo! Luce, voglia! Grazie.